L'artista esistenzialista buonasera da tutti, una quartina nottetempo, le nottate generalmente chiedono eterni lumi e portano tanti consigli. Ho rivisto un cigno nero dal piumaggio vellutato e pupilla gonfia di lacrime e tristezza. La vita è un fantastico viaggio dalle immense sfumature, ma che propone durante quell'intenso cammino sempre meno certezze. Quei rubi di rami inappetenti nascondono le loro ataviche paure, dietro nuguli di panciute foglie dalle essenze verdastre. Non tutti, accanto al prosciutto crudo, propongono provola alla piastra. Nel finale, un po' vittimo provocatore fa riflettere. Nulla, tutto quelle che sono le difficoltà condicenti con la vita di tutti i giorni, cerchiamo di disquisirle e cerchiamo di trarle dei concetti che ci debbano far crescere e migliorare. Nulla, vedi e rivedi il cigno nero. Il cigno nero è la parte di noi che è incompresa. Secondo me è molto bella, molto profondo, emotivamente di un altro pianeta. E quindi questo cigno nero ha un piumaggio che è vellutato, delicato, roba da altri mondi, se mi permettete. Perché io credo che, seppur vero che tutti dicono gli altri siamo noi, però io non credo che siamo tutti uguali. Siamo simili, ma non uguali. Ognuno di noi ha la propria profondità d'animo, il proprio intimismo, eccetera, eccetera. Quindi queste pupille sono gonfie di tristezza, quindi sono delle pupille tristi, delle pupille sofferenziali, quindi gonfie di, empie di lacrime, di sofferenze, di lacerazione. Perché? Perché tendenzialmente poi chi di noi, abbiamo detto, è fatto in un certo modo, nel senso che cerca un po' di, anche magari andare controcorrente, perché siamo di cani sciolti tendenzialmente, cioè non vogliamo appartenere a nessun padrone, però perché viviamo le nostre emozioni profondamente e abbiamo le nostre aspettative, non necessariamente una guida, non ci serve, quantomeno, non è presunzione, ma è prendere atto di chi sia veramente e quindi una propria strada, anche se poi abbastanza sdrucciolevole e complicato. Ecco, la vita è un fantastico viaggio, un viaggio quindi incredibile, inanarrabile, dalle sfumature immense, quindi importanti, molto molto ampie, ma chi durante questo cammino, questo cammino immenso, intenso, incredibile, propone sempre meno certezza, cioè nel senso che nonostante poi la vita è splendida, è bella, è incredibile, però abbiamo sempre meno certezze. Perché? Perché si fanno delle scelte, si paga tazio, c'è sofferenza, c'è incredulità, c'è una difficoltà contingente, ma fa parte del gioco. Chi di noi sa quando parte quella famosa pallina sulla roulette russo della vita, dove si fermerà? Ma i rami, questi rami inappetenti sono rami che non mangiano, che non si nutrono di linfo, quindi rami inappetenti, rami ruvidi e inappetenti. Ecco, mi dà l'idea della parte nostra, intima, sospesa, molto, diciamo, profonda, raccolta e quant'altro, anche nascosta per certi versi. E quello che magari noi non vorremmo mai vedere è una parte ruvida e inappetente, una parte di noi che andrebbe nutrita maggiormente, perché è la parte che magari non ci piace, è un, per certi versi, ecco, è un viver sensazioni poco piacevoli perché ci vengono proposte, ma noi non le accettiamo di buon grado perché non siamo noi stessi, ecco, perché la strada è tracciata e bisogna saperla percorrere. Questi rami inappetenti, eccetera, ci denutriti, nascondono le loro paure atapiche, ecco, sono le paure della notte dei tempi, ecco, non facciamo delle scelte perché abbiamo paura, fa parte del gioco, capisco, comprendo, però poi se non si fanno le scelte, non si cresce, non si migliora, c'è uno statismo di massa che ci rende fragili, inconcludenti. E quindi è tutto un vivere una vita banale che non ha questo gran senso. Ecco, queste paure atapiche, queste paure della notte dei tempi, sono nascoste dietro nuguli oppure gruppetti di foglie panciute, queste foglie molto, molto ampie, arrotondate, con un'essenza verdastra, quindi con una parte intimistica verdastra, dal colore verde-olive, eccetera, eccetera. Ecco, non facciamo le scelte perché chi è dietro di noi, chi è dietro di noi, chi è a fianco a noi, ci fa da scudo, ci fa da ombrello quello che volete, potrebbe essere una madre, una compagna, quello che volete, ed è giusto provare a iniziare a camminare i propri piedi. Ecco, quando tutto è accaduto al prosciutto crudo, propongo la provola alla piastra, chi dice che è a tavola, ci vuole per forza la provola alla piastra, che tutti fanno buonissimo per la bordiglia a fianco al prosciutto crudo. Qualcuno ci mette la mozzarella, qualcun altro, un pochettino più, che va a spezzare i sapori col dolciastro, ottimale per certi versi, ci può mettere il melone, quello di pane, quello d'arancio vestito, ecco, sono scelte, libere scelte, e credo che ognuno di noi debba per crescere, per migliorarsi, per avere un cammino sincero, sicuro e quant'altro, cominciare a fare le scelte con la propria testa, col proprio intimo e con i propri piedi. L'artista esistenzialista buona sera da tutti.